Parliamo e chiudiamo invece con il turismo delle radici, si tratta di italiani emigrati tanti anni fa che tornano per le vacanze, potete immaginare un giro d'affari enorme, Luca Patrignani è andato a Capracotta in Molise, sentite questa storia. All'età di tre anni con i miei sono partito in Francia, a Parigi e dopo cerchiamo di Capracotta che ogni anno si torna qui. Da emigrati si torna proprio per un richiamo dell'energia della terra. La vita di Vincenzo da sempre è in Francia, ma le ferie immancabilmente in Italia a Capracotta si chiama turismo delle origini, italiani emigrati o di seconda generazione che tornano per le vacanze nel bel paese, un fenomeno con numeri in fortissima crescita. Secondo l'Enit, l'agenzia del turismo, l'anno scorso solo dalle Americhe le vacanze delle radici hanno mosso un giro d'affari da 650 milioni di euro, con oltre 670 mila arrivi nel nostro paese. In cima alla classifica gli emigrati che tornano dagli Stati Uniti, 474 mila, con una spesa complessiva di 434 milioni di euro, seguiti dagli italiani in Canada che hanno speso complessivamente 86 milioni e poi quelli del Brasile, circa 35 mila arrivi. Il fenomeno però non riguarda solo i luoghi dell'infanzia o da dove sono partiti nonni o genitori. Il rientro in Italia diventa una scusa per fare altri viaggi, scoprire altre città, muovendo un giro d'affari da non sottovalutare. Vado nelle Marche, l'Alt'Italia per il fatto delle montagne, faccio sci e sci alpinismo. E poi quando sono nel loro paese sono dei testimonial e degli ambasciatori importantissimo per l'italianità. Come nel caso di Francesco, nato a Marsiglia da genitori italiani, anche lui torna in Molise ogni anno per le vacanze. Quando parlo dell'Italia con i miei amici in Francia viene fuori spesso una voglia di portarli per farli scoprire queste cose di tranquillità, di tradizione. Ci fermiamo qui, naturalmente l'informazione torna questa sera alle 19. Buona domenica, buon pomeriggio.